Se ti capita spesso di non riuscire a fare le cose che per te sono importanti, le strade possibili sono soltanto due. Prima strada, questa cosa non è poi così importante, infatti non la fai e fai altro. Seconda cosa, direttamente collegata alla prima, non hai definito correttamente le tue priorità, cioè questa cosa importante pare non essere poi così importante, visto che di fatto non la stai facendo per fare altro. Quindi la cosa che ti suggerisco di fare in questo caso è fermarti e definire le priorità. Mi raccomando di non uscirtene con cose del tipo, io vorrei farlo ma non ho tempo, perché ti ricordo che il nono tempo è la versione degli adulti di Il cane mi ha mangiato i compiti. Quindi ti ricordo che se dormi otto ore, e forse ne dormi anche meno, se lavori otto ore, e forse qui lavori anche di più, non lo so, comunque se dormi otto ore e lavori otto ore, te ne rimangono altre otto per fare un sacco di cose, compresa la cosa più importante per te. Quindi abbandona le scuse, definisci le priorità e prenditi il tempo che ti serve per fare quella cosa che ritieni davvero importante.